A quasi due mesi dagli sgomberi di via Lago di Borgiano, consigliere Pettinari, la situazione per molti inquilini, per molti residenti di queste palazzine resta difficile? Sì, difficilissima. Intanto queste persone non hanno avuto un alloggio, sono tutti ammassati all'interno delle strutture ricettive degli alberghi, dove la convivenza diventa ogni giorno più difficile. Hanno subito grandi stress psicologici, anziani, bambini che si trovano in una situazione veramente difficile, ma la cosa grave è che intanto non si vedono gli alloggi. Hanno promesso una serie di alloggi per la fine di settembre, ma noi siamo qui per dire la verità. Non prima della metà del 2018, fine 2018, si potranno avere i 46 alloggi promessi, perché i lavori sono ancora in alto mare, non sono stati messi a norma, non ci sono i fondi necessari. Poi, cosa gravissima, questi palazzi che sono stati dichiarati gravamente pericolanti, sono ancora così accessibili a tutti, aperti, non transennati, da un momento all'altro. Mentre noi stiamo parlando, può cadere anche qualche intonaco, non solo. Stando in un quartiere periferico problematico, dove si delinque, queste strutture possono essere utilizzate come ricovero di droga, di armi, come stanza del buco, come la chiamo io, per andarsi a drogare. Ecco, possono essere utilizzati per delinquere, quindi che venga fatto immediatamente l'abbattimento, se devono essere abbattuti, oppure devono essere messi in sicurezza e la mettessero in sicurezza. Non si può lasciare così. Noi abbiamo fatto una proposta concreta per risolvere i problemi di questi cittadini, recuperare l'invenduto da parte dei costruttori, per trasferirli a tempo indeterminato in alloggi salubri e idoni. Naturalmente sempre siamo dalla parte di italiani e persone che non delinquono, che pagano regolarmente l'affitto e che hanno veramente necessità contro tutti gli altri, contro coloro che non hanno diritto quindi agli alloggi popolari.